Ho una previsione, poi la guardiamo, e un mazzo di carte, ok? Fantastico, scegli una carta per cortesia, quella che vuoi, fantastico, guardala, falla vedere anche in camera, fatto, meraviglioso. Qui ho la previsione, io già sapevo che carta avresti scelto, in che carta hai scelto? Donna di quadri, falla vedere, la, la, Donna di quadri. La tua carta, la, la Donna di quadri, guarda bene, eccola qua, la Donna di quadri.